Finalmente, finalmente si potrebbe sbloccare la trattativa. Giovani, buongiorno e ben ritrovati sul canale Neapolis 1926. Per prima cosa iscriviti al canale, è gratis. Allora, signori miei, premessa, premessa. Domani, ore 14, ci sarà la conferenza stampa di Antonio Conte. Quindi domani, alle ore 14.30, massimo le 15, ci sarà la reaction alla conferenza stampa di Antonio Conte. Se non riuscite a seguire la conferenza stampa di Antonio Conte, visto che la fa di venerdì alle ore 14, un orario un po' insolito, diciamoci la verità, poi di venerdì, dove la gente è al lavoro, non vi preoccupate, Waiu, perché la trovate sul gruppo Telegram, gruppo Telegram che vi dà le notizie H24, che trovate sotto in descrizione. Detto questo, partiamo subito, partiamo subito, Waiu. Rifacciamo 50 like per questo video? Forza, so che ce la facciamo, che ce la potete fare. Allora, partiamo subito. Santa Turchia, Santo Zaleschi e Santo Tris Mertens. Eh, perché Tris Mertens? Perché poi scendrà sempre il caro Tris, Waiu. Eh, Tris, oramai lo dobbiamo buttare in società, il buon Tris Mertens, Waiu, visto che ci sta aiutando su tutte le trattative di calciomercato. A parte questo. Allora, questione Mario Rui, vi avevo parlato ieri sera proprio della questione Mario Rui. Benissimo, quest'oggi, anzi ieri sera, era uscita la notizia che il Galatasarai era interessato a Mario Rui. Cosa è successo nell'arco della nottata? È successo che il Galatasarai però si era mosso su Zaleschi della Roma. Trattativa in corso tra Galatasarai e Zaleschi, trattativa che però poi non è andata a buon fine. Quindi Zaleschi non dovrebbe più partire e quindi il Galatasarai, signori, dovrebbe, dovrebbe andare a questo punto su Mario Rui. Queste erano le notizie di mattinata. Il problema è che poi sono usciti altri aggiornamenti. Questi altri aggiornamenti cosa riportano? Questi aggiornamenti riportano proprio la trattativa che si potrebbe fare fra Galatasarai e il Napoli. Il Napoli che accetterebbe molto volentieri di liberarsi dell'ingaggio di Mario Rui, lo sappiamo tutti. Ma il giocatore vorrebbe aspettare gennaio. Bene, il giocatore vuole aspettare gennaio perché vorrebbe provare a chiudere con qualche club portoghese. Qual è il problema però, signori? Il problema è uno soltanto. Che la trattativa fra Napoli e Galatasarai deve essere chiusa subito. Se la trattativa non si chiude subito, naturalmente il mercato in Turchia andrà a farsi benedire. Signori, io Sky non lo sopporto più. Tutti i giorni chiama. Amico mio, ti ho dato la disdetta di Sky perché non lo posso più pagare perché è arrivato a 70 euro al mese. Non posso fare. Ti ho già risposto. Guarda, tolgo Sky, mi faccio NautiV per vedere la Formula 1 e la MotoGP. Non mi rompe palle in continuo. Ma io è una cosa allucinante. Quando fai la disdetta poi dopo ti rompono i coglioni in continuo. A parte che mi hanno fatto pagare un altro mese di Sky, mortacci loro e sto ancora guardando Sky. Perché naturalmente finché ho un abbonamento attivo io mi guardo Sky. Non me ne frega un cazzo. Sinceramente. Più la raccomandata, 8 euro di raccomandata per mandarla a Milano per la disdetta di qua e di là. Poi dopo questi 30 giorni la disdetta, tu fai la disdetta, ti staccano tutto. Gli devi rimandare tutto, aspettare altri 30 giorni perché loro poi devono vedere che tu gli hai mandato lo Sky che è tutto a posto. Gli hanno un brutto. Per toglierti Sky, why you? È un'agonia. Almeno, good zone, non ti rompono le palle. C'è la chart virtuale, voglio disdire l'abbonamento, poi me lo rifaccio fra due mesi perché non ha senso, lo stop e poi lo riattivo. Punto, basta, non ti rompono. Come mai? Perché ti possiamo fare un'offerta più? No, però una cosa la voglio dire da Dazon, poi ritorniamo su Mario Rui. Se io ti faccio la disdetta e poi tu mi fai l'offerta da 29 euro al mese, significa che allora tu il pacchetto da 29 euro al mese me lo vuoi fare. Vabbò. E perché non lo dai come opzione ma ti dai quello da 49 euro? Perché? Perché siete stronzi. Siamo stronzi, lo possiamo dire siete stronzi. Vabbè. Ritorniamo a parlare di Mario Rui. Benissimo, il Napoli, sapete tutti che il Napoli ha fretta di chiudere proprio con il Galatasaray questa trattativa. Il problema sta a Monte, il problema sta a Mario Rui, il problema sta lì. Il vero problema è Mario Rui che non si vuole trasferire in Turchia perché vuole andare a giocare in Portogallo per stare più vicino alla famiglia. E questa è una cosa che continuo a ribadire, potrebbe essere giustissima. Da parte di Mario Rui perché naturalmente tenne una certa età, tenne più di 30 anni. Riesce ma sai che c'è una guante, quanto mi spetta ancora da giocare? Sei 6-7 anni? Ma me ne vado in Portogallo come una foto. C'ho la mia famiglia qui. Che mi interessa? Tanto è inutile che vado in Turchia. Poi dalla Turchia devo andare in Portogallo. Le ore di volo, lì già mi trovo in Portogallo. Che la famiglia e le creature, tutti poi stanno felici e contenti. E cazzi e mazzi. Però ecco, il buon Mario Rui, vaiù, ha rifiutato 8 squadre. 8 squadre, ma vaiù. Sono tante. Sono tantissime 8 squadre che tu hai rifiutato. Ti posso capire che rifiuti una squadra. E dici, vabbè, mi sono rifiutato una squadra, non me ne frega niente. Però ecco, tu puoi rifiuti 1, rifiuti 2, rifiuti 3, ma ne rifiuti 8. Bellero frazzo, sono tante eh. Naturalmente io vi ribadisco quello che disse Clarello. Quel nano, quel nano, quel nano, quel nano, quel nano. Hai un rispetto per le persone. Perché pure a te se ti dicono chiatto, vabbè, ti sale il sangue al cervello. Me lo dicono a me, che mi dà fastidio. Tiene capilla, ne avoli. Non ce li ho, che dobbiamo fare? Eh, voglio, non ce li ho, non ce li ho. Metterò il peggio cutanio, ma il peggio cutanio ci vuole 600 euro. 600 euro di peggio cutanio all'anno. Non è una spesa piccola, diciamoci la verità. Pure sì, in Turchia. Se vuole, va in Turchia, 2.000 euro. Però ci vogliono sempre 2 barra 3.000 euro per il trapianto. Dopo, comunque, non stiamo più parlando di Mario Rui, ci siamo distaccati. Voi lo sapete, come so io, parto da un argomento, parto da quell'altro. Comunque, Mario Rui, come fa? Te lo vuoi? Sì o no? Se il problema, sapete qual è? Quello che io ho paura? Che questo non va via. Poi si crea, no? Il gruppo di qua, il distacco, quello si è allenato solo. Il camma fa, chi sta si allena su list? È fuori rosa. Tu hai presentato la formazione, la lista serie A senza Mario Rui, quindi non ce lo puoi rimettere. Vai a creare un danno pure a Conte, perché chi si dice, ma io che cazzo devo fare a questa che sta fuori rosa? Tu lo mandi con la primavera? Uno come Mario Rui che ha vinto Scudetto, ti ha fatto vincere Coppa d'Italia, Supercoppa, Cazzi e Mazzi. Tu che fai, lo mandi? Mi sembra un pochino ingeneroso, diciamo così, però pure Mario Rui non è che si stia comportando benissimo con il Napoli. Però, detto questo, fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti. Vi ricordo che domani, ore 14, ci sarà la conferenza stampa di Antonio Conte. Mi raccomando, attivate la campanellina, così rimanete sempre aggiornati su tutte le notizie quando escono i video. Detto questo, descrizione, gruppo Telegram, anche quelle gratis, poi se volete vi potete abbonare. Da 99 centesimi, noi ci vediamo in serata se ci saranno ulteriori aggiornamenti, perché già iniziano a vociferarsi qualcosa di formazione di qua e di là. Anzi, questa sera, perché poi mi sono andato a risentire la conferenza stampa di Aurelio De Laurentiis, e dice una cosa molto importante, lancia delle bordate molto pesanti a Milan, Inter, Juve e altre squadre. Però ne parleremo questa sera dopo lavoro. Detto questo, iscriviti al canale, sempre e comunque Forza Napoli. Ciao a io!